È stato più complicato lavorare in questi giorni? Non è stato più complicato. È più facile correggere due errori che tutta la partita. Io ripeto, la squadra ha fatto partita sufficiente, poi l'avversario ha fatto due tiri, due gol su errori nostri. Ma dei singoli, per me è sempre la squadra che devo giudicare. Poi che su errori dei singoli si prendono gol, ma i singoli non si possono ricambiare. Devono acquisire la concentrazione giusta per giocare ogni palla con lo stesso impegno. Ruban gioca, poi si vede dopo. Bisogna vedere che cosa uno chiede da un regista. Lei che cosa chiede? Che cosa chiederebbe per la partita di domani, per la partita di Cremona, a Brunman? Di costruire gioco per la squadra. E quindi va bene in quella posizione? In quella posizione deve costruire, lui ha giocato 115 paloni di cui 100 inutili. che è un brutto numero. Perché è troppo lontano dai attaccanti così. Se gioca a mezz'ala è più vicino e ci viene meglio. Ci può dare quelle che sono le indicazioni migliori su Carrano, cioè sulle sue caratteristiche? Vabbè, lui è regista nato, quindi già la mezz'ala si troverebbe male, mentre Brunman può fare questo e altro. Fisicamente è sicuramente superiore a Brunman. Il discorso di nuovo, di esperienze. Lui, giocando primavera, in primavera, specialmente a Firenze, si giocava sotto ritmo, si deve abituare a giocare con ritmo. E anche lì di essere più propositivo e non giocare solo per non perdere la palla. E sulla Cremonese? Una buona squadra con giocatori esperti, anche se provengono dalla Serie C, giocano un calcio abbastanza semplice, ma sempre equilibrato. È fase difensiva e è fase offensiva.